Il ministro Lorenzo Fioramonti ci stava provando già da un po' di tempo e fin dall'inizio del suo mandato aveva annunciato di voler valorizzare il più possibile lo sviluppo delle competenze digitali sia degli studenti sia degli insegnanti. Nei giorni scorsi è arrivata l'occasione buona perché la deputata di Forza Italia Valentina Aprea ha presentato un emendamento al decreto scuola e emendamento che pur essendo dell'opposizione è stato approvato senza troppe difficoltà. La disposizione prevede che nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche indicate nell'articolo 5 del decreto legislativo 59 in materia di formazione e reclutamento del personale docente di scuola secondaria oppure anche nei corsi di laurea in scienza della formazione primaria si dovranno acquisire le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica il cosiddetto coding. Il decreto consente di acquisire tali competenze anche nel corso del periodo di formazione e di prova e la disposizione sta già mettendo in allarme molte categorie di docenti. Per esempio si dovrà chiarire cosa succederà ai docenti che hanno già acquisito i 24 CFU prescritti ma non nell'ambito della didattica digitale. In altre parole per poter accedere ai concorsi banditi di qui in avanti questi docenti dovranno aggiornare il proprio portfoglio di CFU? Per il momento non se ne sa ancora molto ma se si legge l'intero emendamento a PREA si comprende che la materia dovrà essere regolata con un decreto ministeriale. Ad ogni modo il consiglio che ci permettiamo di dare ai nostri elettori è quello di arricchire il proprio portfoglio formativo frequentando attività che consentano di acquisire le competenze necessarie. Al momento del voto decisivo in aula Valentina PREA ha illustrato la proposta sottolineando che il coding va ormai considerato come la quarta competenza indispensabile per il terzo millennio dopo il leggere, lo scrivere e il far di conto. E ha aggiunto la deputata di Forza Italia proprio per questo motivo tutti i docenti ma proprio tutti devono essere preparati ad affrontare la sfida del digitale. Conoscendo i tempi con cui si muove generalmente l'apparato del MIUR c'è da augurarsi che il decreto di cui parla la legge non resti fermo per troppo tempo nei cassetti degli uffici di Viale Trastevere. Su questo tema che sicuramente interessa molto i nostri lettori noi continueremo a tenervi informati quindi seguiteci su questo canale, seguiteci anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it, leggeteci ma soprattutto scriveteci, mandateci le vostre osservazioni e le vostre proposte.